Ok, siamo dentro a un pandino, panda young, blu, con vari problemi, tra cui portiera che non si apre, vivo, troppo alto, con tachinometri che insegna uno sbubbulione di chilometri in più, non pregitato, e stiamo per andare in gara, e stiamo in culo a un Ferrari, potremmo rischiare veramente grosso, sentite il motore, è imbarazzante, lui col suo minimo sistema, Com'è lo zoom, com'è lo zoom? Da sopra, vai là, vai via, 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 il rumore è il nostro, ho visto a non grattare così, cazzo via il fattuto messo, no, non è entrata, attenzione, potrebbe incazzarsi, quindi facciamo finta di guardare altrove, con sto bella guida è pericoloso, guarda che è un f4 e 30, sai perché ho grattato? Perché non sento il rumore della mano, e portano, attenzione, Ferrari è dietro? attenzione, ma potrebbe recuperarci? attenzione, 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 vai, 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 al palo, sono al palo, c'è lk, come potremmo, eh, lk, come potremmo entrare nel culo? anzi, c'è lk, io, io, so essere la fine, la fine dei nostri suoi, di tutti i nostri suoi, è che c'è il mondo, è che c'è lk, e quello che deve essere, è che c'è lk, è che c'è lk.